...a digrat, imbandierata e pestante, saluta l'arrivo del vicere maresciallo Graziani in occasione del suo viaggio nelle regioni e paesi del nord dell'impero. Grazie a tutti. Le stesse entusiastiche e accogliente si rinnovano a Decameré, dinanzi alla Casa del Passo. Il vicere passa e rassegna le centurie operaie che lavorano sulla strada Decameré Nefassini. Grazie a tutti.